Amici, il serale, tutti gli alla fase finale del programma. Il serale di Amici è sempre più vicino, la prima puntata è fissata per sabato 18 marzo. Oggi, domenica 12 marzo, è andata in onda l'ultima puntata dello speciale pomeridiano in cui sono state assegnate le maglie d'oro. Ovvero il lascia passare per la fase finale del talent show. Oltre alle esibizioni dei vari allievi. Ha cantato anche Francesca Michelin che ha presentato il suo nuovo album Cani Sciolti e ha parlato anche del tour promozionale che comincerà a breve. Gli allievi di Amici che si sono conquistati la maglia del serale, sono esattamente 15. Maria De Filippi ha fatto esibire la maggior parte di loro e poi, a seguito della votazione dei professori, ha consegnato le maglie d'oro. Vanno al serale, Maddalena, Federica, Isabel. Angelina, Mattia, Wax, Aaron, Alessio, Piccolo, Ramos, Samu, Cricca, Megan. Gianmarco e NDG. Il direttore artistico di questa edizione di Amici sarà il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stefano Yarni che lavorerà insieme al suo assistente Cristiano Presti. Gli unici due allievi che non sono riusciti ad accedere al serale sono benedette Niveo. Per la ballerina però, è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata, nonostante fosse stata eliminata. Maria De Filippi le ha proposto comunque di fare parte del cast dei ballerini e si esibirà in coppia con il ballerino Samu, i due sono specializzati nei balli latini di coppia. Maria De Filippi le ha proposto comunque di fare parte del cast dei ballerini e si esibirà di fare parte del cast dei ballerini e si esibirà in coppia.